L'impero dei supermercati strappato alla Sacra Corona Unita ora appartiene allo Stato. Sono stati confiscati sette supermercati di Giovanni Mazzotta e tutti gli altri beni che costituivano il tesoro di Gianni Conad. Basterebbe questo soprannome per spiegare di chi fossero in realtà i cinque supermercati di Leverano, il supermercato di Nardò, il negozio di Monteroni, il supermercato di Maglie, le due abitazioni e la villa con giardino anch'esse a Monteroni. Un tesoro che vale un milione e 600 mila euro, già sequestrato nel maggio del 2011 e ora confiscato con una decisione della seconda sezione del Tribunale Penale. In realtà le indagini della Direzione Investigativa Antimafia non sono state facili, anche perché gli uomini della DIA al comando del colonnello Francesco Mazzotta si sono trovati davanti una rete complessa non solo di supermercati ma anche di società, la Gianco, la Dennis, la Miche. È una rete di prestanomi tra cui l'ex moglie e la ex compagna dell'uomo ritenuto vicinissimo al clan Tornese, tanto che lo stesso Angelo Tornese, uno dei capobastone della Scudi Monteroni, ordinava al cassiere del clan Lucio Vetrugno di erogargli somme di denaro. Lo stesso Lucio Vetrugno, detto Lucio della Tigre a causa della Tigre siberiana che era posta a guardia della sua masseria la tenente di Copertino, che venne ucciso il 22 dicembre 2010, forze per contrasti tra i clan. E proprio dalle tasche di Lucio della Tigre, perquisito dalle forze dell'ordine quando era ormai senza vita, è saltata fuori una delle prove citate dal procuratore Cataldo Motta sulla base delle indagini della DIA per dimostrare il collegamento tra Gianni Conad e il clan. Quattro assegni post datati per un valore totale di 18 mila euro intestati a Vetrugno ed emessi da una delle società riconducibili a Gianni Conad. Tutti elementi che, insieme alla condanna definitiva subita da Mazzotta per traffico di droga e insieme all'evidente sproporzione tra i redditi di Gianni Conad e dei suoi prestanome, rispetto a tutti i loro beni e le attività imprenditoriali, hanno portato alla decisione della seconda sezione del Tribunale Penale, presieduta dal giudice Tanisi. Con un risultato che l'impero dei supermercati della SCU, ora, passa nella disponibilità dello Stato, a cui spetta il compito più difficile, amministrarli e trasformare un seme proveniente dalla criminalità organizzata in un frutto di economia sana.